Buongiorno che so lì. Ma stai intorno lento. Sì. Eh, sai, sai, sai. La mia testa non mi consente. Ma vai, anche se c'è. Vai, vai, Giovanni. In posizione, in posizione. No, no, no. Mettevi anche lì. Tanto non si vede. Mia, uno spirito, guarda. Uno spirito. Mia, 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 ti cosi, stai cos'è là? Ma perché è buc'è? Non sta bene, c'è l'affetto.